gruppo dei pellegrini del decimo cammino attorno ai paesi del lago e finalmente è giunto alla tica chiesa parrocchiale di san gavino siamo a aigo maggiore 4 gennaio abbiamo già visitato le chiese di santa barbara e santa greca nelle campagne e sono per la prima volta vedremo appunto la prima parrocchiale del paese impianto romanico hai letto il secolo antecedente al 1388 immaginati suoniamo la campana perché siamo sempre soliti suonare quando si arriva guardate quel bettile entriamo dentro come per me la proprio la prima volta in assoluto l'ho trovata sempre chiusa è di un fantastico guardate quindi usato per assoluta santa e qui abbiamo molto bella con un san sebastiano di bottega locale san che bello ecco la monofora davvero fantastico un quadro ce ne sono altri due sono in sardegna il 500 è usato anche per soscrivamento perché vediamo qui che appunto si piega cristo alla colonna è vero ecco impressionante con un volto carichissimo di sofferenze Grazie.